Bella a tutti ragazzi su Parla e Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News, spoiler e altro Sono tornato ragazzi con un nuovo video sicuramente come avete letto dal titolo Oggi siamo di fronte ragazzi a una notizia davvero abbastanza spoiler Ovviamente ragazzi questo spoiler non è confermato al 100% quindi non scrivete nei commenti mi è spoilerato questo, mi è spoilerato quest'altro Ma l'eventualità che possa succedere è veramente molto probabile E ovviamente a sostenere questa teoria come sicuramente avete letto dal titolo E' stato rilasciato un audio dell'episodio 8x8 ovvero del mid season di The Walking Dead Perché come sapete insomma The Walking Dead ci sarà la pausa appunto invernale di The Walking Dead E finirà l'episodio appunto 8x8 e poi a febbraio ci saranno gli altri 8 episodi della stagione 8 E purtroppo ragazzi come avete letto dal titolo in questo audio ci potrebbe essere l'eventualità che a essere ucciso sia proprio Carl Perché si sentono all'interno di questo audio delle cose abbastanza interessanti che vanno analizzate Quindi oggi in questo video ragazzi andremo a parlare di questo audio che è stato rilasciato appunto da un utente Che molto probabilmente appunto ha sicuramente entrato in possesso di questo file Non so come ma comunque insomma non ci frega appunto del motivo come appunto abbia fatto a prendere questo file Ma ci interessa il contenuto di questo file e oggi appunto lo andremo ad analizzare insieme Oltre a questo ragazzi, oltre a questo fantastico audio spoiler, fantastico per modo di dire Andremo a rispondere come al solito alle vostre domande, infatti se avete qualsiasi domanda da farmi basta fare hashtag question and answer E successivamente la vostra domanda, così che posso rispondervi nei prossimi video Prima di iniziare vi ricordo come al solito di lasciare un mi piace veramente ragazzi ci tengo veramente moltissimo Cerchiamo di superare i 150-120 mi piace appunto su questo video perché ci terrei veramente moltissimo Iscrivetevi per non perdere i prossimi contenuti di The Walking Dead E se volete mandatemi un messaggio nella pagina Facebook di The Walking Dead e news spoiler e altro Se volete entrare nel gruppo Telegram, un gruppo dove ci sono anch'io, dove ci sono gli altri iscritti E si parla ovviamente di The Walking Dead, quindi trovate il link della pagina Facebook per contattarmi in descrizione E che dire, adesso iniziamo subito con il video In descrizione ragazzi troverete il link di questo file Che comunque insomma di questo video poi alla fine non si vede granché Si vede soltanto lui che sta appunto vedendo una registrazione già fatta Si vede appunto sopra il tempo che sta passando E semplicemente si sente l'audio di quello che potrebbe essere uno scontro a fuoco Durante l'episodio 8x8, ovvero il mid-season di The Walking Dead Infatti appunto si sente ovviamente, sembra quasi una coltellata quella che si sente all'interno di questo audio E si sentono delle voci, adesso non si capisce bene chi stia parlando esattamente in quell'audio, in questo audio qua Ma sembra che ci siano Carl e Rick a parlare in questo audio Infatti abbiamo Carl o Rick che dovrebbe dire back off Quindi praticamente va indietro, torna indietro, sta indietro E poi si sente appunto questa coltellata che sembra proprio un salvatore che appunto accoltella Carl E poi successivamente gli toglie il coltello e si sente proprio il rumore di quando praticamente, diciamo, Carl ha ricevuto la cortellata Ovviamente è una cosa ipotetica, nel senso che ovviamente non si sa effettivamente se sia Carl la vittima in questo audio Però The Spoiling Dead Fans, sicuramente conoscete la pagina Facebook di The Spoiling Dead Fans Ha detto che c'è una buona percentuale che Carl muoia all'interno del mid-season di The Walking Dead 8 Infatti appunto per chi non sapesse cos'è The Spoiling Dead Fans È una pagina Facebook che già comunque vi ho portato dei suoi spoiler appunto quando dovevamo scoprire chi era morto da Negan Loro ci hanno preso sempre Cioè loro hanno fatto sempre le predizioni giuste, non hanno mai sbagliato una cosa Però questa volta non sono completamente sicuri di ciò che stanno dicendo Perché comunque Carl potrebbe essere morto all'interno di questo mid-season C'è l'eventualità e a questo audio è la prova proprio che sostiene che questo mid-season potrebbe proprio essere Carl a morire Però ragazzi questo audio ovviamente non è certo, non è di una fonte certa È semplicemente un utente che l'ha caricato Ovviamente non si sa come questo utente ci sia entrato in possesso di questo video, di questo audio Però fidatevi che non è assolutamente al 100% confermato Bisogna vedere se questa cosa poi si verificherà effettivamente Però l'eventualità che in questo audio Carl sia morto Sono veramente, le percentuali sono veramente ragazzi molto alte In quanto ovviamente insomma Carl, essendo che da come ho sentito qualche news Vuole lasciare lo show per qualche strano motivo Perché ha da fare con la scuola o cose del genere Insomma sono notizie che circolano da un bel po' di tempo comunque Quindi non sono ovviamente confermate ma l'attore, cioè Charles Riggs A quanto pare insomma vorrebbe proprio lasciare lo show da quello che si dice in giro Però ovviamente ragazzi queste sono soltanto supposizioni, sono soltanto teorie Ma comunque insomma essendo che The Spoilered Fans è una pagina Facebook Che comunque è spoilerata tantissimo di The Walking Dead e ci ha sempre preso Credo ovviamente che le probabilità che possa succedere siano veramente molto alte Non mi spiego a livello di trama come questo potrebbe andare avanti Nel senso Carl comunque è molto importante nella guerra e molto importante anche dopo la guerra Quindi stiamo parlando ovviamente del fumetto Perché il fumetto insomma quanto comunque avete letto Carl è vivo nel fumetto quindi non è assolutamente morto L'eventualità appunto che possa essere nella serie TV Cambiare questi eventi proprio improvvisamente, cambiarli totalmente Credo che non sia la mossa giusta da fare ecco Perché comunque Carl è un personaggio che comunque è molto adorato dai fan Anche se insomma non tanto però comunque lui dovrebbe proprio essere il futuro di The Walking Dead Quindi non si spiega il motivo per cui appunto The Spoilered Fans abbia quasi confermato la sua morte nel mid season E sia uscito questo audio che potrebbe avere la conferma di ciò Quindi staremo a vedere ragazzi come si evolverà il tutto Io spero veramente di no perché per Rick sarebbe una morte devastante E forse ciò spiegherebbe la sua faccia che abbiamo visto ovvero possa la misericordia preverere sulla mia ira Può essere che appunto Carl sia entrato in contatto con questa persona E poi praticamente Carl faccia amicizia con Abud che è il ragazzo appunto che ha detto questa frase del Corano Magari Rick si ricorda di lui e dato che comunque insomma Carl è diventato tra virgoletto Diventerà insomma amico di questo ragazzo qua Potrebbe essere appunto che dica questa frase per quel motivo là Ovviamente sono tutte ragazzi supposizioni e teorie che si stanno facendo su internet Però ragazzi purtroppo insomma bisogna cominciarla a fare Perché comunque una notizia del genere certo non è confermata ma non è nemmeno esclusa ecco come cosa Quindi staremo a vedere ragazzi come si evolverà il tutto Se per la trama sarà una cosa fondamentale quella di far uccidere Carl Se avrà un senso quello che stanno facendo e cambiare così tanto la trama Speriamo appunto che non la cambino totalmente Che abbia un senso il motivo appunto perché vogliono far morire Carl Staremo a vedere come si evolverà il tutto Fatemi rispondere voi con un commento cosa ne pensate di questa notizia Se siete d'accordo con me e se ci può essere l'eventualità che Carl possa morire Ma io personalmente se vi devo dare un'opinione mia personale non credo che muoia Carl È quasi, cioè a mio parere è quasi impossibile Poi se ci sarà il colpo di scena ancora meglio Cioè nel senso sarò sbalordito a vedere una cosa del genere A vedere il pianto di tutti i personaggi che comunque gli vogliono bene a Carl Come Michonne, Rick, Daryl, tutti quanti insomma Perché Carl è un personaggio davvero molto importante Quindi staremo a vedere appunto come lo vorranno fare Fatemelo sapere voi con un commento Se siete d'accordo con me Cioè che nonostante questo spoiler escludete la morte di Carl Oppure siete convinti che Carl possa effettivamente morire in questa stagione O barra in questo mid-season perché alla fine è quello più o meno il tempo in cui dovrebbe morire Carl Fatemelo sapere ragazzi voi con un commento L'audio spoiler comunque ragazzi lo trovate in descrizione Così se lo volete sentire lo potete tranquillamente fare Trovate il link nella descrizione E che dire ragazzi adesso possiamo passare tranquillamente alla seconda parte del video Come sapete la seconda parte è dedicata alle risposte alle vostre domande Quindi se avete una domanda da farmi basta fare hashtag question and answer E successivamente la vostra domanda Prima domanda ce la fa Samoeligione che ci cade question and answer Hai presente la bambina Fox hai presente la bambina zombie dell'episodio 1x1 Il vagante che è apparso nell'8x1 dove Rick è andata a uccidere Dove Rick è andata a uccidere Era la stessa attrice Sai allora grazie Samoeligione per la domanda Che poi alla fine è un'affermazione barra domanda Ma comunque ti ringrazio tantissimo per averlo puntualizzato Ma lo sapevo infatti appunto inizialmente non l'ho visto Devo essere sincero nel senso l'ho dovuto vedere su internet Su facebook Perché ero talmente tanto preso all'episodio Cioè nel senso stavo guardando tanto l'episodio Che non ho visto nemmeno lo zombie che stava vedendo Rick Cioè perché stavo parlando appunto dell'episodio Con appunto il ragazzo in cui con il mio amico appunto Che come sapete insomma faccio le live ogni lunedì Quindi mi raccomando non perdetevi le live ogni lunedì Sul canale Stavo parlando con lui del fatto che appunto Avesse incontrato questo ragazzo Che ha sparato in aria così Insomma che non ci ho fatto nemmeno caso inizialmente Poi ho detto oh mio dio ma quella è la stessa attrice Infatti poi è stato confermato E quindi l'ho saputo un po' dopo Comunque grazie per la puntualizzazione Samuel Perché comunque era una cosa che sinceramente Non ho notato prima In quanto sono stato un po' disattento Prossima onda ce la fa Charlie Marino che ci chiede question in answer Bella Fox volevo chiederti Com'è possibile che durante l'attacco di questa prima puntata Non fosse presente nessuno dei salvatori Nonostante l'ultima puntata Della settima stagione In un'ultima scena Se ne vedo una centinaia Inoltre non ho ben capito Quanti siano gli avamposti dei salvatori 3, 4, 5 Forse di più Continua così Allora grazie mille Charlie Per il complimento Allora credo che questo si spiegherà tutto negli episodi dopo In quanto nell'episodio 4 Secondo me Nell'episodio 4 e 5 Si vedrà il motivo per cui Negan Si è voluto comportare in questo modo Secondo me i salvatori comunque sono all'interno del santuario Alcuni sono usciti Come avete visto per la mandrea Quindi poi alla fine Dwight ha detto Fate uscire insomma questi salvatori qua Quindi alcuni dal century sono usciti di salvatori Però sì Non me lo spiego nemmeno io Perché quando Negan ha detto Andiamo in guerra E appunto fatto Tutti quanti hanno fatto E andiamo in guerra E questo insomma è una cosa che dice Ma tutti quei salvatori Dove sono stati in questa puntata? Sicuramente erano all'interno del santuario Negan Essendo che era come ha detto lui In riunione Può essere tranquillamente Che abbia detto Ragazzi Voi non intervenite assolutamente E state lì Cioè nel senso Magari Negan Ha tutto un piano Lui Perché comunque insomma Gli ha proprio detto Lui stesso Gli ha detto Pensi di avere numeri per questa battaglia Negan non si aspettava appunto Che Rick agisse in questo modo Proprio perché non aveva i numeri Per questa battaglia Quindi Ovviamente insomma Non aveva senso per Negan Fare una battaglia del genere Perché aveva dato per esclusione Che fosse lui a vincere Perché comunque Rick non ha assolutamente i numeri Per affrontare questa battaglia Però l'ha colto sul fatto Della sorpresa Visto che comunque insomma I vaganti hanno invaso il santuario E quindi sono entrati tutti quanti Non mi spiego il motivo Per cui Negan A quel punto Cioè i salvatori appunto Dopo quella Dopo quell'evento Non siano usciti tutti quanti Per uccidere tutti quelli Del gruppo di Rick Non me lo spiego questa cosa Ma si spiegherà tranquillamente Nell'episodio 4 o 5 Perché lì Mi pare di aver letto La sinossi Che vi ho portato anche nel canale Dove era una puntata Dedicata principalmente Ai salvatori Quindi si scoprirà appunto Che fine ha fatto Gabriel I salvatori come sono messi Eccetera eccetera Quindi si spiegherà tutto Avrà tutto un senso Nell'episodio 4 o 5 Adesso non mi ricordo bene Comunque Penso che tutto ciò Abbia un senso Nei prossimi episodi Comunque grazie mille Per la domanda Charlie Prossima domanda ce la fa Shane Walsh Che ci chiede question and answer Fox secondo te Tornerò in futuro Tornerò in futuro Flashback o allucinazione Allora La seconda domanda Che mi fa Shane Quindi grazie mille Shane Secondo te Tornerà Shane Cambiamo la domanda Perché ovviamente Se l'è detta lui Proprio da solo Essendo Shane Ovviamente io ci credo Che è lui Fox secondo te Tornerò in futuro Guarda Ti dirò Secondo me Già apparso Shane Una volta Non credo che Riapparirà assolutamente In futuro L'abbiamo già visto Nella terza stagione Quando Rick Se l'è immaginato Quando gli stava Caricando l'arma E si era immaginato Shane Era bellissima Quella scena là Proprio se Aveva visto Proprio Aveva rivisto Un'altra volta Shane In punto Tra virgolette Di morte Perché alla fine Stava caricando il fucile Ma poi ha sparato ad Oscar E Rick Poi l'ha ucciso Durante la battaglia Col governatore Nella terza stagione Quindi no Secondo me È già apparso una volta Shane E non tornerà assolutamente Nuovamente Almeno credo Poi se vogliono Stravolgere tutto Ma non penso Prossima Ultima domanda Ce la fa Alex Mariotto Che ci chiede Question and Answer Pensi che il finale Della puntata In cui Rick piange Pensi che abbia perso Judith Oltre a Michonne Bella Fox Allora grazie Alex Per la domanda Allora io penso Che Judith Abbia Possibilità Di morire In questa stagione Però attenzione Se muore Carl Lo escludo totalmente Che Judith Possa morire Perché non penso Che Rick e Port Possa perdere Tutte e due i figli In questa stagione Potrebbe essere Ci sto pensando adesso Che muore Carl E Judith La fanno crescere Piano piano E dare uno spessore Tipo di Carl Nel senso comunque Fare un Carl 2.0 Ma è una teoria assurda Che ho avuto adesso Praticamente Quindi non credo Proprio sia possibile Però Penso che il finale Della puntata In cui Rick piange Credo sia Proprio nel momento In cui muore Carl O nel momento In cui a questo punto Due teorie Sia perché adesso Uscita questa cosa Di Carl Che può morire E sia la seconda Quando Rick decide Di non uccidere Negan Perché comunque Insomma Avevo già portato Un video Comunque insomma Queste due teorie Sono davvero Molto probabili Quindi staremo a vedere Come appunto Si metterà il tutto Ecco perché comunque Insomma ci sono Queste due eventualità Che Rick Possa avere Quella faccia lì Dopo aver visto La morte di Carl In mid season O tranquillamente A fine puntata A fine stagione Quando deve decidere Se uccidere Negan o meno Quindi credo Queste siano Le due teorie Però Judith Penso di no Perché se muore Carl Secondo me Muoiono Carl E Michonne Di importanti In questa stagione Proprio se vogliamo esagerare Io avrei detto Solo Michonne E qualcun altro O tipo Shiva E cose del genere Però insomma Con questa cosa Riuscita di Carl Che ha l'eventualità Molto probabile Che possa morire Ci sto un po' Ripensando Ma comunque staremo A vedere Nel senso Questa volta Neanche dei Spoiling Dead Fans Che è la pagina Facebook Che vi ho detto io Non ha le morti Confermate Non lo sa nemmeno lei La pagina Quante morti ci siano In questa stagione E chi è stato ucciso Quindi staremo A vedere appunto Tutti quanti Perché non possiamo Assolutamente prevedere Ciò che succederà Fatemelo sapere ragazzi Con un commento Cosa ne pensate Di tutte queste domande E soprattutto Cosa ne pensate Di Carl Se secondo voi Sarà lui a morire Nel mid season Oppure no Se si salverà Se magari verrà solo ferito Insomma Se quell'audio lì Può essere effettivamente Appunto uno spoiler Fatemelo sapere appunto Voi con un commento Perché ci tengo Veramente la vostra opinione Quindi niente ragazzi Spero questo video vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo Di lasciare un mi piace Perché ci tengo Veramente moltissimo Inoltre iscrivetevi Per non perdere I prossimi contenuti Di The Walking Dead Se volete entrare Nel gruppo telegram Mandatevi un messaggio privato Nella pagina facebook Di The Walking Dead News e spoiler e altro Io vi risponderò Il prima possibile Spero questo video vi sia piaciuto Noi ci sentiamo Un prossimo Un saluto da Fox Di The Walking Dead News e spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ma io ti ucciderò